bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine del miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi amici parliamo di un caso italiano di cui ho sempre voluto parlare un caso che è avvenuto quando io avevo tipo 12 anni e di cui si è parlato tantissimo sono sicura che saranno in tanti a ricordarsi questa vicenda prima di cominciare però amici voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi ovvero Letyshop Letyshop è un servizio di cashback un servizio gratuito che ti permette di ricevere indietro una parte di soldi che spendi nel tuo shopping online attraverso il sito oppure l'app potete scegliere tra migliaia di negozi di tutti i generi ed è veramente comodo perché essendo convenzionato con così tanti negozi si ha davvero la possibilità di risparmiare su qualsiasi cosa basta iscriversi appunto gratuitamente sul sito o sull'app selezionare il negozio da cui vuoi fare l'acquisto controllare che l'icona verde di Letyshop sia attiva in alto e al checkout e in seguito al pagamento ti verrà accreditata la percentuale di cashback di soldi direttamente sul tuo conto paypal o sul tuo conto bancario e non si ricevono dei buoni sconto o cose così si ricevono proprio dei soldi reali con cui fare quello che si vuole scaricando l'estensione per il vostro browser inoltre sarà ancora più facile capire quali sono i siti convenzionati con Letyshop in modo da non perdere mai l'occasione di ricevere un cashback facendo shopping trovate il link per provare Letyshop come sempre sotto nella descrizione del video e adesso cominciamo con la storia di oggi oggi amici parliamo del delitto di Novi Ligure il caso di Erika De Nardo nasce il 28 aprile 1984 e ha 16 anni al tempo di questa storia ed è la figlia di Francesco De Nardo e di Susanna chiamata da tutti Susi Cassini che oltre lei hanno anche un altro figlio più piccolo di nome Gianluca Francesco De Nardo ha 44 anni è un ingegnere e lavora come dirigente di spicco alla Pernigotti che sarebbe un'azienda produttrice di cioccolato il signor De Nardo è un uomo che si è fatto da solo è arrivato al nord dal sud negli anni 60 ed è praticamente partito da zero e si è costruito una carriera e una bella vita sua moglie Susi la signora De Nardo lavora come ragioniera in un'azienda ma poi quando ha i figli Erika e poi Gianluca decide di licenziarsi per dedicare tutto il suo tempo ai figli e alla famiglia Susi è una donna molto religiosa frequenta la chiesa e nel tempo libero insegna anche catechismo e fa anche tantissime attività di volontariato la famiglia De Nardo vive in una bella villetta a Novi Ligure che nonostante questo nome si trova in Piemonte non molto lontano da Alessandria Novi Ligure è proprio l'esempio perfetto di cittadina in cui si conoscono tutti e in cui non succede mai niente di cui parliamo sempre nei miei video ha circa 27.000 abitanti ed è appunto un posto molto tranquillo una cittadina di provincia e la vita della famiglia De Nardo è infatti una vita semplice una vita da cittadina di provincia Erika è un adolescente normale vive una vita tranquilla anche un po' perché no privilegiata perché comunque la sua famiglia economicamente sta bene a scuola Erika non eccelle ha frequentato il liceo scientifico ma poi ha cambiato e ha iniziato a frequentare un istituto privato di ragioneria in cui va un po' meglio Gianluca invece il suo fratellino minore ha 11 anni ed è anche lui un bambino assolutamente normale per la sua età va benissimo a scuola e ha una passione per i pokemon come chiunque alla sua età in quel periodo me compresa e adora sua sorella Erika ma il 21 febbraio del 2001 succede qualcosa di orribile a questa famiglia qualcosa che cambierà non solo la loro vita ma un po' la vita di tutti perché quello che succede sconvolgerà una nazione intera e non si parlerà d'altro per molti molti anni a venire Fuori è buio, è l'ora di cena e due donne si trovano in macchina che stanno guidando per una stradina di Novi Ligure quando ad un certo punto vedono una ragazzina a piedi nudi sporca di sangue che gli chiede di fermare la macchina perché qualcuno aveva appena ucciso sua mamma e suo fratello e probabilmente si trovava ancora dentro casa sua la ragazzina a piedi nudi amici era Erika Denardo le due donne allora si fermano e l'aiutano e insieme a lei chiamano i carabinieri che subito accorrono sulla scena quando arrivano alla villetta dei Denardo e entrano nell'abitazione amici la scena che si trovano davanti è talmente spaventosa talmente cruda che il procuratore capo di Alessandria Carlo Carlesi alla vista di quella scena viene colto da un malore ed è costretto ad uscire velocemente da quella casa possiamo fare una domanda contesemente lei è accorso subito sul posto di questa tragedia che sconvolge l'opinione pubblica certamente sconvolge l'opinione pubblica è uno degli episodi più feroci che abbia visto in vita mia che insomma ormai ne ho visti tanti 43 anni di servizio c'è sangue ovunque nella casa dei Denardo in cucina c'è il tavolo completamente ribaltato addirittura spezzato in due e a terra si trova il corpo senza vita di Susi la mamma di Erika qualcuno l'aveva aggredita e le aveva inflitto ben 40 coltellate a terra è pieno di impronte impronte di scarpe insanguinate che portano gli inquirenti al piano di sopra lungo le scale c'è anche una sostanza blu una specie di polverina per terra ma arrivati al bagno ci trovano una scena ancora più difficile da guardare ancora più difficile da accettare perché immerso nell'acqua della vasca da bagno anche lui ormai senza vita c'era Gianluca il fratellino di Erika lui amici era stato ucciso da 57 coltellate sdegno, orrore e rabbia massacrati ieri sera con decine di coltellate la donna è stata uccisa in cucina il bambino Gianluca è stato raggiunto sulle scale mentre cercava scampo nel bagno del piano superiore della billetta il procuratore capo Carlo Carlesi ripresosi dal malore che aveva avuto alla vista di tutto questo rilascia una veloce intervista ai numerosissimi giornalisti che avevano già circondato la casa e racconta quello che ha visto racconta che Gianluca presentava tantissimi segni come se il responsabile avesse voluto seviziarlo e quando gli chiedono perché secondo lui era successa una roba del genere cioè chi poteva essere stato lui con abbastanza sicurezza risponde che probabilmente è stata una rapina finita male uno dei motivi potrebbe essere la rapina sicuramente la rapina Francesco Denardo il padre di Erika non si trovava in casa al momento della strage perché stava giocando una partita di calcetto con dei suoi amici era stato ovviamente avvisato e adesso si trovava anche lui lì fuori dalla sua villetta in mezzo alla folla di giornalisti distrutto dal dolore che abbracciava sua figlia Erika che invece amici mentre gli aggressori erano entrati avevano brutalmente ucciso sua mamma e suo fratello si trovava in casa Erika infatti aveva raccontato che quella sera si trovava al piano di sopra in camera sua intorno alle 20 e 30 e stava ascoltando musica a tutto volume a quell'ora erano rientrati sua mamma Susi insieme al fratellino Gianluca ad un certo punto però Erika racconta di aver sentito delle urla provenire dal piano di sotto e poi due tonfi per le scale spaventata Erika racconta di aver spalancato la porta della sua camera e di aver visto un uomo che aggrediva suo fratello Gianluca e che subito dopo si era gettato sulla madre Susi che si era precipitata tentando di difendere il figlio a quel punto secondo il racconto di Erika sua madre l'aveva vista e le aveva urlato di scappare via di mettersi in salvo Erika senza neanche riuscire a pensare aveva agito distinto ed era scappata arrivata in salotto però aveva incontrato un secondo uomo che aveva cercato di fermarla tentando di aggredire anche lei che però fortunatamente era riuscita a difendersi racconta infatti di avergli tirato contro una bottiglia di whisky e in quel modo era riuscita a scappare attraverso una porta che dava su un seminterrato che a sua volta dava sul parcheggio dell'abitazione e così era riuscita a scappare in strada e poi aveva fermato la macchina con le due donne che avevano chiamato i carabinieri Erika quindi si era salvata per miracolo Erika era riuscita a vedere i due aggressori in faccia quindi fa una dettagliata descrizione agli inquirenti uno aveva la barba bianca era grosso poteva pesare sui 100 kg mentre l'altro era più giovane sui 25 anni che sarebbe quello che aveva cercato di aggredirla e che si era preso la bottigliata di whisky in faccia e c'è un'altra cosa di cui Erika è certa i due aggressori erano stranieri probabilmente albanesi da cui amici parte la caccia alle streghe o meglio la caccia agli albanesi Gli assassini erano già in casa entrati dal garage della villetta a schiera dopo aver neutralizzato i due cani da guardia La donna è stata uccisa in cucina il bambino Gianluca è stato raggiunto sulle scale mentre cercava scampo nel bagno del piano superiore della villetta Si cercano almeno due uomini uno forse albanese forse la stessa banda che da mesi terrorizza Novi Ligure con sei stupi altrettanto rapide La città di Novi Ligure è a dir poco indignata la gente urla per strada contro il sindaco accusandola di non proteggere i suoi cittadini di non fare niente contro questi delinquenti contro questi stranieri che vengono nel nostro paese e uccidono le nostre famiglie Si sospetta di una banda di slavi rapinatori ma dalla casa non è stato rubato nulla Ormai non siamo più sicuri di stare in casa Non è stato paura Mi sa cosa deve ancora succedere perché qualcuno si interessa a noi L'ora di finirla, io due figli Abbiamo paura, paura di tutti Non è vero se c'è la legge del signore Per la pena di morti Non c'è l'unità E' abbazzata Gente da caliera C'è troppa delinquenza Troppo urbanità Questo è esattamente quello che viene detto per esempio dai vicini di casa dei Denardo Una signora afferma con convinzione che quello che è successo alla povera Susi e al povero Gianluca è colpa del governo italiano Il governo italiano che fa entrare gli stranieri a casa nostra Stranieri che poi ci ammazzano Io credo che molti vogliono più sicurezza e meno clandestini in giro Voi invece volete più clandestini o comunque più immigrati Non perché l'immigrato sia un delinquente ma perché in Italia l'immigrazione è sfuggita al controllo del governo Ai vari telegiornali i titoli delle notizie non lasciano neanche uno spiraglio di dubbio Vengono dette cose come madre e figlio di 12 anni massacrati in casa a Novi Ligure Gli assassini sarebbero due stranieri Si cerca una banda di Slavi Addirittura amici a qualche telegiornale intervistano alcune persone del luogo sapete come fanno sempre e gli chiedono che cosa ne pensassero del fatto che due stranieri abbiano compiuto questo gesto agghiacciante Ebbene vi faccio vedere quello che un signore e una signora propongono come soluzione per le persone che hanno commesso questo crimine Sentite E voilà Nel frattempo Erika continua a collaborare con le autorità nella ricerca dei responsabili Erika non mostra particolari emozioni in tutto questo periodo di tempo il che può risultare strano E' molto fredda Addirittura pensate che la soprannominano il ghiaccio la donna di ghiaccio Ma allo stesso tempo sapete che ognuno processa il lutto e la tragedia in modo diverso E quello a cui aveva assistito lei era a dir poco traumatico Cioè magari stava attraversando un periodo di dissociazione per sopravvivere al trauma Il suo aiuto è comunque molto apprezzato In un'intervista a Carlo Carlesi il procuratore gli viene chiesto come sia la deposizione di Erika al che lui risponde così Gli inquirenti decidono poi di mostrarle alcune foto di uomini albanesi con dei precedenti quindi già schedati per vedere se magari lei non riconoscesse qualcuno Lei sfoglia queste foto e ad un certo punto ha proprio un sussulto perché riconosce uno dei due aggressori precisamente quello più giovane quello che aveva tentato di aggredirla Il ragazzo si chiama Arben è albanese e vive in Italia con un permesso di soggiorno regolare ma appunto ha qualche piccolo precedente per questo è schedato ma Erika è sicura è stato lui I carabinieri allora vanno a prelevarlo da casa sua e lo portano in caserma per interrogarlo e perquisiscono anche la sua casa in casa trovano effettivamente dei vestiti che corrispondono alla descrizione che Erika aveva fatto quindi mettono sotto torchio questo ragazzo che però nega tutto anzi ha un alibi lui la sera del 21 febbraio intorno alle 20 e 30 si trovava a giocare a bowling con dei suoi amici che ovviamente possono confermarlo dopo aver verificato il suo alibi lo lasciano andare non poteva essere lui il responsabile anche perché Erika aveva detto di avergli tirato in faccia una bottiglia di whisky ma questo ragazzo Arben non presentava nessuna ferita quindi nulla non era lui ma nel frattempo a qualcuno durante le indagini inizia a venire qualche dubbio se davvero qualcuno era entrato in casa De Nardo per rapinarli che motivo c'era di uccidere in quel modo non solo la madre ma anche il fratellino senza poi rubare niente e se davvero erano due omoni così grandi grossi e violenti come aveva fatto Erika così minuta a difendersi e a scappare e ancora perché non c'era nessun segno di effrazione e se non fosse una rapina la domanda agli investigatori se la sono posti per la prima volta alla fine dell'unesimo sopralluogo della casa degli orroi pochi soldi poca roba poca pensandoci bene c'erano davvero tante cose che non tornavano come il fatto che obiettivamente nessuno andrebbe a rapinare una villetta in una zona residenziale all'ora di cena quando sono tutti sicuramente dentro casa a cenare e inoltre il modo in cui avevano ucciso Susi e Gianluca era troppo violento c'era stato un accanimento un overkilling e solitamente dove c'è overkilling c'è passione nel senso c'è emozione c'è rabbia c'è odio verso le vittime è difficile che qualcuno uccida in questo modo una persona sconosciuta solo perché è di intralcio alla tua rapina ma se non era stato qualche malintenzionato che voleva rapinare casa De Nardo chi poteva essere stato possibile che il responsabile non sia un ladro o ancora peggio possibile che il responsabile non sia un extracomunitario gli inquirenti iniziano a seguire una pista che mai avrebbero pensato di seguire e se fosse stata Erika stessa è un pensiero orribile certo però spiegherebbe tante cose spiegherebbe perché non c'era segno di scasso e perché il cane di famiglia non abbia abbaiato spiegherebbe anche tutti quei segni sul corpo del povero Gianluca che forse non erano sevizie forse la mano che lo aveva colpito semplicemente non era abbastanza forte non era la mano di un grosso grande albanese forzuto ma la mano di una minuta sedicenne fa male anche solo a pensarci che una ragazzina di appena sedici anni abbia fatto queste cose alla propria madre e al proprio fratello ma se fosse così una domanda sorgerebbe spontanea perché ma soprattutto chi l'ha aiutata perché gli aggressori sicuramente erano stati due gli inquirenti allora iniziano a puntare lo sguardo un po' più su Erika e iniziano a scavare nel rapporto che aveva con sua madre e con suo fratello scoprono che effettivamente Erika aveva un rapporto piuttosto conflittuale con sua madre anche se in realtà non sembrano problemi così gravi ma semplicemente incomprensioni comuni tra una madre che è in un modo e una figlia che è tutto l'opposto una donna e una giovane donna che parlano due linguaggi completamente diversi e non riescono a capirsi Susi era molto cattolica come vi dicevo e spingeva sua figlia Erika ad andare a messa per esempio ma Erika che non è credente non ci vuole andare non gliene frega nulla di andare a messa com'è piuttosto normale penso per una ragazzina di quell'età a me a 16 anni col cavolo che mi potevi convincere ad andare a messa la mamma a suo modo cerca di dimostrare il suo amore nei confronti della figlia per esempio scrivendo sul suo diario di scuola alcune frasi dedicate a lei ma sempre frasi prese dalla Bibbia quindi anche lì un linguaggio che probabilmente non faceva altro che allontanare Erika che sul suo diario personale invece scriveva cose così anche oggi quel bambino mi ha fatto arrabbiare e l'ho picchiato e sta parlando di suo fratello Gianluca ovviamente mammina lo ha difeso guardano solo a lui come bravo Gianluca come bello per fortuna che c'è Omar la mamma non capisce niente mi impedisce di vederlo ho tardato solo 5 minuti e si è incazzata questa storia deve finire ma chi è questo Omar di cui Erika parla nel suo diario Mauro Favaro chiamato da tutti Omar è il figlio del titolare di un bar di Novi Ligure che Erika ha conosciuto qualche tempo prima e con cui si è fidanzata Omar però inutile dirlo alla mamma di Erika non piace non ha una buona reputazione ha persino un piccolo precedente oltretutto fuma e non solo sigarette e la gente del quartiere le ha detto di stare molto attenta a sua figlia perché a quanto pare nel gruppo che frequentano lei e Omar girano delle sostanze quindi a questo punto amici Erika ha 16 anni e ha una storia con un ragazzo che sua madre non approva anche qui amici correggetemi se sbaglio è tutto abbastanza non voglio dire normale in realtà perché non è obbligatorio uscire con persone che i tuoi genitori non approvano però a chi di noi non è mai capitato Susy però non vuole proteggere sua figlia solamente da una compagnia sbagliata e dalle sostanze vuole proteggerla anche da una relazione potenzialmente tossica nel senso che Erika e Omar sono totalmente codipendenti si isolano sempre di più da quel gruppo che a sua madre non piaceva e sono sempre più solo loro due nel loro piccolo mondo in cui non permettono a nessuno di entrare è una relazione quasi morbosa la domanda a questo punto sorge spontanea possibile che ad uccidere Susy e Gianluca siano stati Erika e Omar gli inquirenti il 23 febbraio fanno un sopralluogo nella casa dei De Nardo questa volta però ci portano anche Erika e con lei c'è anche Omar che la gente fino a quel momento non aveva mai visto infatti i giornalisti che come sempre circondano l'abitazione si chiedono cosa c'entra il fidanzatino di Erika in quella storia comunque gli inquirenti portano Erika dentro la casa e notano subito che la cosa non le provoca nessuna emozione le chiedono ancora una volta di mostrargli in che modo si sarebbero svolti i fatti in che modo si sarebbe svolta questa aggressione da parte di questi fantomatici albanesi e lei ripete la dinamica indicando i luoghi della casa in cui era venuto tutto ma la dinamica che lei racconta non combacia con i fatti con l'analisi fatta sulla scena del crimine nella sua storia ci sono dei buchi e gli inquirenti glielo fanno notare ma lei è evasiva si scusa dice di non ricordare bene Omar in tutto questo le sta accanto ma non dice una sola parola per tutto il tempo quello stesso giorno subito dopo questo sopralluogo i due ragazzini vengono portati in caserma e vengono lasciati soli in una stanzetta per un po' di tempo Erika e Omar in questa stanzetta vengono filmati e registrati ma loro non lo sanno pensano di poter parlare liberamente e chiaramente amici le autorità li hanno messi lì apposta perché vogliono vedere come si comportano quando pensano che nessuno li guardi ed è qui infatti che avviene il colpo di scena la svolta in questo caso amici queste intercettazioni io me le ricordo ancora le ho viste al telegiornale tantissimi anni fa ma non le ho mai dimenticate in queste intercettazioni c'è Omar che è molto nervoso è agitato e non capisce perché li abbiano portati lì alla fine il sopralluogo era finito quindi si chiede perché non li lasciano andare Erika lo tranquillizza gli dice che non succederà nulla che andrà tutto bene e poi iniziano a raccontare delle cose che sono veramente difficili da ascoltare Omar dice io l'ho colpito così a tuo fratello quando si è tolto l'asciugamano è riuscito a ribellarsi diverse volte anche lui quando l'acqua è diventata tutta rossa tutto quel sangue mi sono cambiato avevo le strisce rosse cazzo al che Erika risponde mia madre ti diceva io ti perdono Omar io voglio vivere Omar e a me diceva Erika ferma perché mi fai questo e mentre parlano di queste cose mentre descrivono queste scene atroci mimano con le mani il gesto delle coltellate dicono anche altre cose che in realtà fanno capire quanto fossero piccoli e inconsapevoli Erika dice a Omar cose tipo tranquillo non hanno prove che siamo stati noi tanto se il tuo dna si mischia al dna di mio fratello viene fuori un nuovo dna sì certo e poi sempre Erika dice a Omar se ti fanno il processo io sono l'unica testimone e io dirò sempre che non sei stato tu stai tranquillo va tutto benissimo non ci prenderanno non sono scema e neanche ingenua e conclude con una frase che da da riflettere dice adesso che tutti sanno di noi potremmo girare finalmente a testa alta in paese come una coppia ufficiale infine Omar affettuosamente la tira a sé dicendole vieni qui assassina al che lei risponde assassino ci sarai tu e i due si baciano c'è una svolta agghiacciante nel delitto di novi liburi una tragedia di famiglia confermano per entrambi il fermo per omicidio volontario quindi amici che dire da queste registrazioni è chiaro è assurdo anche solo pensarci eppure è proprio così sono stati Erika e Omar Erika ha tolto la vita a sua madre e al suo fratellino e non è stato nessun albanese nessuno slavo nessun extra comunitario la risposta era lì davanti agli occhi di tutti e tutto perché da quello che emerge da queste intercettazioni sembrerebbe per poter essere libera di stare con il suo fidanzato con Omar ma chiaramente le cose amici sono un po' più complesse di così quando la notizia viene divulgata potete immaginare la reazione delle persone che hanno dovuto bloccarsi e posare le torce i forconi che già avevano in mano e non è una battuta amici perché lo stesso giorno in cui è uscita la notizia che non erano stati gli albanesi a fare quella strage ma Erika e Omar la stessa sera era in programma una fiaccolata della Lega Nord a Novi Ligure per protestare contro l'invasione degli extracomunitari fiaccolata appunto annullata in fretta e furia dopo l'uscita delle ultime notizie e tra l'altro a proposito di tutte le notizie che escono ogni volta che accade un caso come questo io onestamente mi sorprendo sempre di questi titoloni estremi cioè il dare per assodato una cosa che è magari solo una supposizione cioè come si fa a dire in tv gli assini sono due stranieri quando ancora non si sa nulla cioè neanche inserire una parolina per dare un po' il beneficio del dubbio e a proposito di questo mi ha fatto sorridere diciamo così una frase che si sente dire da un giornalista in un documentario che ho guardato su questo caso praticamente ci sono tutti i giornalisti fuori dalla caserma che vogliono notizie sulle indagini e si sente uno di loro dire ma in che senso vabbè a parte le notizie inventate quando la gente ha scoperto la verità erano tutti sconvolti nessuno lo avrebbe mai immaginato e soprattutto nessuno si spiegava il perché da quel momento in poi comunque i due ragazzi vengono separati e non si toccheranno più né si parleranno più vengono subito arrestati Erika viene portata all'istituto penale per minorenni beccaria di Milano mentre Omar viene portato al Ferrante a Porti di Torino e a questo punto vengono interrogati entrambi ma separatamente per capire esattamente cosa fosse successo e come era prevedibile da questo punto in poi Erika e Omar che erano stati complici inseparabili fino a quel momento ci mettono un secondo e mezzo a voltarsi le spalle a vicenda i due iniziano ad accusarsi tra loro Erika dà tutta la colpa a Omar e Omar dà tutta la colpa a Erika lei racconta che ha fatto tutto lui prima aveva ucciso sua madre poi aveva chiuso Erika nel bagno e aveva ucciso suo fratello al piano di sopra e poi l'aveva costretta a far sparire tutte le prove quando le chiedono perché l'avrebbe fatto cioè perché Omar avrebbe ucciso tua madre e tuo fratello lei ha risposto che lo aveva fatto perché diceva che i genitori di lei non li lasciavano liberi di stare insieme che in realtà se vi ricordate è una frase che lei ha detto durante le intercettazioni quando le hanno chiesto perché lei avrebbe accettato di coprirlo dopo una cosa tanto terribile lei risponde perché avevo paura di lui e perché lo amo e non volevo perderlo lui invece racconta tutto l'opposto racconta che non era neanche presente quella sera racconta di aver ricevuto una chiamata da Erika che gli diceva di raggiungerla a casa sua e quando era arrivato lì lei aveva già ucciso sua mamma e suo fratello e gli aveva raccontato tutto nei dettagli ma lui giura di non essere mai neanche entrato in quella villetta Erika racconta anche che era Omar quello controllante nella relazione dice che erano innamorati ma lui era presto diventato estremamente geloso e la picchiava ogni volta che lei anche solo salutava un altro ragazzo dalla prigione scrive anche delle lettere a delle sue amiche scrivendo di essere completamente innocente di non aver fatto nulla e che presto l'avrebbero rilasciata ma indipendentemente da quello che i due ragazzini raccontano le analisi forensi non mentono la ricostruzione dei RIS è molto chiara e dimostra che entrambi avevano agito entrambi avevano ucciso quel giorno praticamente in ugual misura ma emerge anche un'altra verità vi ricordate quella sostanza blu che avevano trovato sulle scale ecco era racumin che sarebbe veleno per topi è stato dedotto che probabilmente i due ragazzi all'inizio non avevano il coraggio o non volevano usare il coltello anche sul fratellino e quindi avevano pensato di eliminarlo usando del veleno probabilmente lo avevano messo in un bicchiere d'acqua per farglielo bere ma questa sostanza non è idrosolubile non si scioglie nell'acqua quindi probabilmente salendo le scale l'acqua deve essersi rovesciata e con essa anche il veleno che poi è rimasto lì per terra sulle scale dopo un po' durante gli interrogatori probabilmente davanti alle numerosissime prove Omar inizia a cambiare versione e a prendersi un po' più di responsabilità all'inizio se vi ricordate diceva di non essere mai neanche entrato nella villetta ma dopo un po' aveva ammesso di essere entrato e di aver ucciso Susie ma continua a dare la maggior parte della responsabilità a Erika racconta che lei era quella che lo aveva spinto lei era quella che gli aveva chiesto di ammazzargli i genitori come se fosse una prova d'amore perché così appunto dopo sarebbero potuti stare insieme si sarebbero potuti sposare e avrebbero potuto fare un figlio Omar racconta che quella sera questa è la sua nuova versione lei Erika lo aveva fatto entrare in casa e gli aveva dato un paio di guanti di gomma e un coltello lui dice di essersi rifiutato di uccidere e allora Erika lo aveva chiuso nel bagno e quando sua madre era tornata a casa col fratellino Erika aveva iniziato a litigare con lei e dopo l'aveva colpita col coltello a quel punto sempre secondo il racconto di Omar Erika lo aveva fatto uscire dal bagno insultandolo e gli aveva imposto di colpire sua madre anche lui lui dice di averlo fatto ma di averla colpita solamente una volta e racconta anche che dopo aver ucciso Susi e Gianluca mentre Omar stava uscendo dalla casa Erika lo aveva guardato e gli aveva detto ma che fai te ne vai e mio padre non lo uccidiamo Erika invece rimane fedele alla sua prima versione Omar l'aveva tenuta chiusa in bagno per tutto il tempo e aveva ucciso tutti lui da solo e dice anche che era stato lui a dire a lei ma cosa fai aspettiamo tuo padre uccidiamo anche lui ma Omar che collabora sempre un po' di più rivela agli inquirenti il luogo in cui aveva nascosto l'arma del delitto il veleno per i topi e anche i guanti utilizzati e dopo averli analizzati ci trovano sopra tracce di sangue di Omar e tracce di Susie e Gianluca sapevano già che Erika avesse ucciso Susie e Gianluca perché avevano trovato tracce di sangue di sua mamma sui suoi jeans e avevano trovato anche le impronte delle sue scarpe proprio accanto al corpo di suo fratello quelle di Omar trovate sull'arma del delitto e sui guanti erano la prova che anche lui aveva partecipato la responsabilità insomma era di entrambi si pensa che Omar abbia avuto maggiore responsabilità nella morte di Susie mentre invece la responsabilità in quella di Gianluca era in egual misura di tutti e due Erika e Omar continuano a stare in prigione in attesa del loro processo e a questo punto amici succede una cosa che non vi suonerà nuova ma in qualche modo sì avete presente ogni volta che vi parlo di criminali vari qua sul mio canale arriva sempre il momento in cui vi racconto che una volta arrestati centinaia di donne iniziano a scrivere lettere d'amore a questi soggetti e mi diverto sempre a leggere i commenti perché ne leggo sempre tanti che dicono ah questi americani sono proprio scemi ah alle donne piace questo genere di uomo ebbene in questo caso tutto italiano succede la stessa identica cosa ma Erika cioè sono decine e decine gli ammiratori uomini che mandano in prigione indirizzata a Erika lettere d'amore dedicate a lei e lei ad alcuni risponde e con uno addirittura inizia una relazione perché nel frattempo con Omar le cose neanche a dirlo sono finite questo ragazzo era un dj e si scambia numerosissime lettere con lei i due si chiamano amore ma in realtà non si sono mai visti lui però viene invitato ad un programma televisivo se non sbaglio da Mara Venier quindi diciamo che ha i suoi 15 minuti di fama e chiaramente lei Mara ad un certo punto gli chiede però tu sai che Erika ha commesso un delitto terribile la sentenza non ce l'ha ancora stata insomma come dire che comunque la prova che sia colpevole ancora non c'è questa relazione comunque come è nata poi si è spenta e tra l'altro purtroppo questo ragazzo morirà sette anni dopo per via di un bruttissimo incidente con la sua auto il processo si svolge il 28 novembre del 2001 ma prima di arrivarci bisogna dimostrare che Eric e Omar siano in grado di intendere di volere e vi racconto una cosa che secondo me è molto interessante che personalmente non sapevo praticamente nel nostro paese i minori imputabili quindi dai 14 ai 18 anni devono sempre essere sottoposti a delle perizie che accertino la loro capacità di intendere di volere cioè per la legge italiana un adulto è considerato di default di base capace di intendere di volere al massimo gli si fa una perizia per verificare che non lo sia ma si parte dal presupposto che lo sia nei minori invece è l'opposto quindi si parte dal presupposto che il minore non è in grado di intendere di volere e quindi si effettua la perizia per capire se lo è oppure no spero di essermi spiegata bene è specifico che con capace di intendere di volere non si intende se ha un disturbo mentale oppure no si intende se è in grado di comprendere cosa è giusto da cosa è sbagliato o meglio se nel momento in cui ha compiuto il crimine era in grado di comprendere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato a prescindere da un possibile disturbo mentale perché uno potrebbe avere un disturbo mentale ma allo stesso tempo potrebbe essere in grado di riconoscere cosa è giusto da cosa è sbagliato quindi sottopongono Erika e Omar a diversi test e colloqui con svariati specialisti e dalla documentazione dei periti emerge che Erika soffrisse del disturbo narcisistico di personalità e presentava un quadro pervasivo di grandiosità necessità di ammirazione e totale mancanza di empatia Erika quindi non dava molta importanza agli altri e li usava manipolandoli solo per appagare i propri bisogni Omar invece presentava il disturbo dipendente di personalità e in particolare aveva una pervasiva ed eccessiva necessità di essere accudito che determinava un comportamento sottomesso di dipendenza e di timore della separazione in qualsiasi contesto si trovava a vivere ma come vi dicevo prima si può avere un disturbo e allo stesso tempo essere in grado di intendere di volere come in questo caso perché entrambi hanno un disturbo della personalità eppure vengono dichiarati capaci di intendere di volere ma a parte questo amici vi rendete conto che questi due erano l'incastro perfetto l'uno dell'altro Erika era una narcisista manipolatrice che necessitava di persone che l'adulassero che dipendessero da lei che facessero quello che lei voleva Omar era dipendente dai rapporti affettivi era sottomesso e arrendevole facilmente manipolabile erano veramente come due pezzi di Lego che si incastrano perfettamente ma in un modo totalmente tossico e distruttivo perché se ci pensate amici l'uno alimentava gli aspetti distruttivi dell'altro perché Omar con il suo fare amplificava il narcisismo di Erika ed Erika con il suo fare amplificava il disturbo di dipendenza di Omar per quanto riguarda invece il rapporto tra Erika con i suoi genitori quando le è stato chiesto dagli specialisti se odiasse sua madre lei aveva risposto di no aveva risposto che sua madre era bellissima e che non era un mostro e che le scambiavano sempre per sorelle e dice anche che tutto quello che ha imparato l'ha imparato proprio da lei ed è possibile che proprio per questo motivo che le scambiassero per sorelle che ci fosse un conflitto tra le due in un documentario di History Channel infatti definiscono la mamma di Erika un possibile ingombrante alter ego per Erika Comunque il processo comincia come detto prima il 28 novembre 2001 e si svolge con rito abbreviato e fuori dal tribunale di Torino c'è una folla incredibile di giornalisti ma soprattutto di curiosi il processo però si svolge a porte chiuse come per tutti i processi di imputati minorenni ma a quanto pare anche al processo i due ragazzi si sono dati la colpa a vicenda Erika ha detto che l'idea del delitto è stata di entrambi ma ad uccidere effettivamente è stato solamente Omar mentre Omar inutile dirlo ha rimandato queste accuse ammittente ma i RIS ricostruiscono gli avvenimenti di quella sera e questa è la ricostruzione di quello che secondo tutte le indagini è successo realmente quella sera quando Susi la mamma di Erika è tornata a casa Gianluca era con lei ed era corso subito al piano di sopra farsi gli affari suoi presumibilmente a giocare Susi saluta Erika e il suo fidanzato e si dirige verso la cucina i due ragazzi a quel punto l'aggrediscono alle spalle uno dei due le tappa la bocca con una mano e l'altro comincia a colpirla con il coltello la donna divincolandosi tenta di liberarsi e sbatte due volte contro il tavolo della cucina che si ribalta e si spezza in due Erika e Omar continuano a colpirla finché Susi non respira più e anche oltre perché come sappiamo i colpi sono stati 40 a quel punto però si accorgono che il fratellino Gianluca ha visto tutto perché sentendo i rumori era sceso dal piano di sopra e ha assistito a quella scena spaventosa e probabilmente quindi uccidere anche Gianluca non era nei loro piani iniziali ma decidono di farlo comunque per non lasciare testimoni i due quindi tentano di affogarlo nella vasca da bagno che era piena d'acqua perché Gianluca si stava preparando proprio per fare il bagno ma non ci riescono in quanto il piccolo tenta di liberarsi con tutte le sue forze come sappiamo provano ad avvelenarlo ma neanche quello funziona e quindi a quel punto decidono di usare il coltello anche su di lui preciso che durante le indagini è emerso che effettivamente Erika e Omar facessero uso di sostanze proprio come temeva Susi ma è stato confermato che i due non fossero in stato di alterazione la sera del delitto quindi erano lucidi il 14 dicembre del 2001 la corte del tribunale dei minori di Torino emette la sentenza Erika De Nardo viene condannata a 16 anni di reclusione e Mauro Favaro Omar viene condannato a 14 anni di reclusione e ad Omar sarebbero stati dati due anni in meno perché durante le indagini aveva cooperato un po' di più rispetto a Erika che invece non aveva cooperato per niente nella sentenza il giudice specifica che la responsabilità dei delitti come già detto in precedenza è di entrambi allo stesso modo nel senso che in questa coppia non c'è tanto una vittima e un carnefice ciascuno ha usato l'altro per soddisfare le proprie necessità psicologiche e si pensa anche che se Erika e Omar non si fossero mai conosciuti singolarmente non avrebbero mai ucciso è stata proprio la loro unione ad essere diventata letale la reazione alla sentenza dei due ragazzi è molto diversa Omar subito è quasi stupito sembra disorientato ma poi si dispera scoppiando a piangere Erika invece esplode di rabbia inizia ad insultare tutti il giudice gli avvocati e il giornalista Meoponte racconta di aver capito solo in quel momento quale fosse la vera Erika perché fino a quel momento si era impegnata per rimanere tranquilla per farsi vedere in un certo modo ma alla sentenza secondo lui è venuta fuori la sua vera natura io credo aver capito che era Erika al processo quando lei per mesi ha cercato di rinforzare un volto umano una contrizione al momento della sentenza lei esplosa e aggredito a male parola insultare i due ragazzi rimangono nei rispettivi carceri minorili fino al compimento dei 21 anni quando vengono trasferiti nel carcere ordinario Omar in quello di Asti e Erika nella casa di reclusione di Brescia Verziano nel 2005 Erika prova a chiedere di essere trasferita in una comunità di recupero ma la richiesta viene respinta in quanto il cambiamento di Erika non era per nulla evidente addirittura nel 2006 il criminologo capo del collegio che aveva svolto la perizia psichiatrica per la difesa di Erika ha fatto delle dichiarazioni molto molto dure nei confronti della ragazza che vi leggo perché a mio avviso sono molto interessanti vi leggo le testuali parole prese da un articolo di Andrea Acquarone su Il Giornale Erika Denardo è ancora la stessa persona di quando ha ucciso era stato riconosciuto un disturbo grave della personalità per il quale erano previste cure assidue da parte di specialisti del Beccaria di Milano ma in cella non tutto è andato come doveva andare e oggi che ha 22 anni Erika è un guscio vuoto quando uscirà dal carcere non sarà cambiato niente e poi continua dicendo sulla vicenda sono state fatte troppe banalizzazioni e non si è mai detto il motivo per quale Susi Cassini e Gianluca Denardo vennero ammazzati il piano della coppia era preciso il fratellino di Erika non doveva essere presente perché doveva andare fuori in casa di amici i due ragazzi avrebbero dovuto uccidere madre e padre di Erika adottare poi il fratellino Gianluca e vivere insieme alla nonna della ragazza fino a sposarsi le cose però non andarono così si è anche detto che Erika fosse una specie di virago e Omar suo succube in realtà pochi sanno che prima dell'estate del 2000 era stato Omar a lasciarla perché voleva divertirsi nel periodo estivo i due poi si sono rimessi insieme ad ottobre il ragazzo non piaceva tanto ai genitori di lei ma non c'erano segnali di particolare preoccupazione Erika non rientrava mai in ritardo non usciva mai di sera i due stavano per lo più chiusi nella stanza di Omar dove all'insaputa di tutti sperimentavano l'uso di droghe oltre ad una sessualità violenta infine infine parla anche del padre di Erika e di come abbia superato in qualche modo la vicenda e dice lui è riuscito a sopravvivere al dramma perché è un grande credente e perché è convinto che chi ha ucciso sia stata la malattia della figlia e non la figlia infatti amici una cosa da sapere è che il padre di Erika non ha mai lasciato il suo fianco le è sempre stato vicino sempre amici ancora oggi e so che è qualcosa di difficile da comprendere ma non sta a noi giudicare e tra l'altro voglio specificare che suo padre non l'ha mai difesa cioè vediamo spesso in molti casi dei ragazzi giovani fare delle cose orribili e vediamo spesso i genitori che li difendono negando l'evidenza difendendo la loro innocenza quando palesemente non c'è in questo caso è diverso perché suo padre non l'ha mai difesa le è solo stato accanto e l'ha sempre amata lo stesso Erika comunque in carcere studia e si laurea in filosofia ad aprile del 2009 con una tesi sul pensiero socratico prendendo 110 elode Omar invece viene rilasciato tre anni prima rispetto alla sua pena grazie all'indulto quindi il 3 marzo del 2010 è ufficialmente un uomo libero Erika invece nell'ottobre del 2011 lascia il carcere viene accolta in una comunità la comunità Exodus e finisce di scontare la sua pena a dicembre dello stesso anno una volta libero Omar viene visto al cimitero sulle tombe di Susi e del piccolo Gianluca e i giornali subito lo fotografano e riportano la notizia Erika non reagisce bene a questa cosa e gli scrive una lettera molto aggressiva in cui gli dà del viscido e gli dice di essere senza dignità e lo accusa di usare sua madre e suo fratello per farsi popolarità vi leggo tutta la lettera che ho trovato in un articolo sul Corriere si vede chiaramente quanto sei viscido e senza dignità usare mia madre e mio fratello per farti popolarità per farti dei soldi ti sei fatto fotografare al cimitero da loro ma non ti vergogni hai reso un sacco di dichiarazioni false ma non mi stupisce da un vile come te ma recarti al cimitero e farti fotografare è una cosa da indegno quale tu sei ti chiedo per l'ultima volta di smetterla di speculare sulla mia famiglia di certo così non trovi lavoro sempre che tu non voglia fare il grande fratello adesso basta spero che tu abbia capito che devi vivere senza continuare a legarti alla mia famiglia ma come Omar Favaro è ora che tu spenga i riflettori su di noi allora che dire di questa lettera io non so se penso che Omar si sia fatto fotografare apposta o che si sia fatto pagare cioè Erika sta insinuando che Omar si sia fatto fotografare e abbia venduto alle riviste le foto per farsi qualche soldo chiaramente non sappiamo se sia vero o se sia una sua supposizione se fosse vero allora io capirei la rabbia di Erika onestamente se non fosse vero allora questa lettera sarebbe solo l'ennesima prova della sua mancanza di empatia perché io non trovo strano che Omar vada sulla tomba delle due persone che ha ucciso che conosceva tra l'altro lo vedo anche un po' come un gesto di chiusura per lui penso sia comprensibile che lui ci vada onestamente troverei strano il contrario e questo certo sarebbe comprensibile per chiunque ma non per una persona che manca di empatia e che probabilmente a causa del suo disturbo narcisistico vive questa cosa solamente come un attacco personale perché alla fine pensa che tutto giri sempre solo intorno a sé questa è la mia umilissima opinione ripeto ovviamente questo se davvero Omar non si è fatto fotografare apposta anche perché c'è da dire che Omar a parte un'ospitata a Matrix nel 2011 se non sbaglio non ha mai voluto rilasciare interviste non ha mai partecipato a tutti gli altri programmi tv che come potete immaginare lo hanno invitato e ha sempre voluto mantenere un profilo basso dicendo di voler solo dimenticare ed essere dimenticato ma purtroppo per lui non viene dimenticato a lungo perché c'è una notizia piuttosto recente che lo vede indagato a Ivrea vicino a Torino per violenza domestica nei confronti della sua ex moglie praticamente lui e sua moglie si erano separati lei era andata via di casa e nel 2022 lui aveva ottenuto l'affidamento della figlia che hanno insieme da quello che si legge sul giornale il mattino la bambina ad un certo punto avrebbe manifestato il desiderio di andare a vivere con la sua mamma e la donna di conseguenza avrebbe chiesto di avere più occasioni di vedere la figlia ma a quel punto sarebbero partiti degli esposti incrociati e su quello della moglie lei racconterebbe di percosse minacce sopprusi e violenze avvenute tra le mure domestiche tra il 2019 e il 2021 a quel punto i pubblici ministeri avrebbero chiesto delle misure restrittive nei confronti di Omar quindi lui non si sarebbe più dovuto avvicinare alla donna ma il giudice si è opposto alla cosa quindi la questione si dovrà risolvere in tribunale nel frattempo però a febbraio 2023 una perizia ha confermato la capacità genitoriale di Omar e la sua avvocata ha detto le seguenti parole è una guerra dei rosis dove le accuse a nostro avviso sono funzionali a ottenere nel procedimento civile una posizione di forza che alla donna al momento non è riconosciuta Novi Ligure non c'entra niente però è evidente il tentativo di dare maggior risalto alla separazione quindi l'avvocata di lui sta dicendo che è semplicemente una brutta separazione la guerra dei rosis tra l'altro se non l'avete mai visto è un film bellissimo in cui appunto i protagonisti stanno divorziando e si fanno cose orribili a vicenda e questa avvocata dice anche che la sua ex moglie sta strumentalizzando il passato di Omar contro di lui perché è chiaro che con un'accusa di molestie la prima cosa che verrà fuori è beh chiaro lui da ragazzino ha ucciso delle persone ovvio che adesso sarà violento chiaramente anche qui non sappiamo quale sia la verità quindi io mi limito a leggervi le notizie su questo Erika Denardo invece ad oggi ha 37 anni e vive e lavora in un piccolo paesino lavora in un'azienda vinicola con anche un ruolo di responsabilità è fidanzata con un uomo che ha conosciuto la comunità Exodus e anche lei vuole mantenere un profilo basso e non vuole far parlare di sé amici nessuno in realtà ha mai capito fino in fondo questo caso il caso di Novi Ligure nessuno ha capito fino in fondo perché Erika e Omar abbiano fatto quello che hanno fatto il giornalista Meoponte sempre nel documentario di History Channel dice che secondo lui c'è dell'altro cioè Erika continuava a dire di aver voluto uccidere la sua famiglia per avere più libertà ma lui dice che questa cosa non ha nessun senso perché di fatto erano liberi deve esserci qualcosa di più secondo lui c'è qualcosa che i ragazzi sanno che non hanno mai detto e che probabilmente non diranno mai e forse è così amici io cioè l'ho pensato anche io onestamente ma forse questa è una di quelle cose che ci si dice quando la verità è troppo cruda no? perché è più facile pensare che ci sia dell'altro chissà forse qualcosa di orribile che giustificherebbe quel gesto spaventoso che hanno compiuto due ragazzini di 16 e 17 anni ci risulta troppo difficile pensare che una ragazzina di 16 anni abbia voluto davvero uccidere sua mamma e il suo fratellino per un motivo che ai nostri occhi appare così futile penso che però da un lato sì sicuramente non capiremo mai cosa c'era davvero nella testa di erica e omar e forse va bene così qui amici si conclude il caso di oggi fatemi sapere se lo conoscevate già oppure no forse i più giovani di voi non lo conoscevano chi lo sa io come al solito vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo come sempre al prossimo video ciao 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 ciao